buongiorno a tutti ed eccoci qui un nuovo video su bavoni ingrifatti e su championship manager 2003 2004 siamo qua con la nostra bella samp siamo nel calcio mercato di gennaio non è facile fare uno speciale solo calcio mercato visto che giochiamo alla fine ogni 6 o 7 giorni giochiamo sempre quindi è sempre difficile spezzettare bene questo speciale calcio mercato diciamo comunque sia sono andato avanti e grazie ai vostri consigli sto cercando di comprare appunto i difensori beh intanto come già avevo detto forse non l'ho detto non mi ricordo nemmeno più ho cercato di prendere difensori di alto livello come se faccio vedere acquisti futuri mi sembra che sia qui no questi sono gli acquisti che sto facendo adesso che sono albresten albresten martin del copenhagen danese che è un difensore per nulla male 24 anni che costa un milione e cinque un milione e tre scusate io ricordo che ho un budget di un milione e 4 sto cercando di comprarlo però con l'opzione cioè quindi dando 140 mila adesso e 2 milioni fra due anni e Toledo che è il mio pupillo sicuramente con Todorov non l'avevo preso fino adesso perché non mi serviva diciamo però ho pensato che potrei farlo giocare come ala è una bella idea dribbling 20 e l'ho fatto sempre giocare come ala quando avevo attaccanti molto forti e vi faccio vedere era catanzaro come sempre stato per poi però essere acquistato dalla selernitana per 500 mila euro però poi è andato in c e ora in c sta spaccando tutto con una media voto di 8.33 però giocavo soltanto tre presenze ora che ci faccio conto in coppa stranissimo non lo fanno giocare a sapete perché perché non ho la serie c segnata nel gioco quindi non si può vedere vedete clic ma non posso vederla ok gli acquisti che volevo fare erano toure mi sembra difensore dell'arsenal che giocava nell'arsenal poi è andato nel city adesso e colo toure e chi era l'altro chi era scusate non mi ricordo ecco toure rifiuta ehm colo rifiuta la samdoria e l'altro chi era arper cazzo arper si va arper il portiere da newcastle ehm che a me ne avevo voto pazzesca per un portiere soprattutto però non vuole venire ovviamente 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 ehm quindi ragazzi questo era un po' un riassunto di queste settimane detto un po' la cacchio di cane però ve l'ho detta ora andiamo a giocare la partita con l'avellino e poi abbiamo l'atalanta la partita tostissima e vediamo un po' se in queste due partite riusciamo ad acquistare questi due cazzo di giocatori cioè toledo e quel minchia di danese che non riesco neanche a pronunciare ehm quindi via con l'avellino sandoria giocheremo con la formazione tipo classica che ora metterò a posto intanto andiamo a vedere l'avellino e poi ci ritroveremo in partita allora vediamo un po' l'avellino c'è un morfu un gubellini un tarantino in attacco sinceramente io l'avellino sono molto ignorante ehm non ne conosco molti i giocatori vediamo se ne becco uno che conosco gubellino ho già sentito ma penso per casualmente non non l'ho mai sentito filimov cupi puleo maglietta thompson gorzegno cinelli milesi morfu gubellini tarantino bah ma squadra davvero che non so che dire vediamo un attimo eh sì ciao vediamo un attimo i trasferimenti hanno acquistato questi giocatori qua boh hanno speso un milione e nove non non poco giocatori ceduti invece questi due ma nulla di che comunque sedicesimo si sta salvando al pelo ma si sta salvando quindi ragazzi è una squadra che devi giocare bene perché con giocatori così scarsi non è facile quindi ci vediamo alla partita la sandoria continua ad attaccare non ci fermiamo gas barroni se ne va gas barroni gas barroni mette il pallone in mezzo no fa adesso facile cacalov bellissima palla e cacalov la butta con prepotenza in porta un a zero grande gas barroni nostro assist man eh con sette assist mi sembra angolo per l'avellino attenzione gubellini palla in mezzo molto lenta ma madonna antognoli devo cambiare sotto le gambe sotto le gambe 1 a 1 pareggio l'avellino immediato antognoli rivediamo perché questo è da rivedere ragazzi perché non si può ragazzi non si può non si può da puleo subire gol mi scuso col signor puleo ma un gol così non lo puoi subire signor antognoli che vi capellate la fate anche nella realtà però così porca troia no palla per todorov todorov se ne va bene todorov vuoi mettere in mezzo ma cosa tiri passatavela voi due cacalov e todorov passatavela madonna interi vantaggio corre coba puleo calci punizione aiuto gra paura spazza via bene domizzi recupera todorov todorov contro piede in modo di dire perché sono in quattro in difesa todorov non c'è spazio passa la cacalov e la passa allungandosela cacalov cacalov sotto le gambe anche lui 2 a 1 ma questo è un tiro preciso davvero fatto apposta qui cacalov finalmente todorov diciamo tra virgolette gliela passa perché rivediamolo secondo me questo non era un passaggio era solo si è allungato la palla male e cacalov gliela ha rubata e poi gliela mette sotto le gambe bravissimo spazza via la difesa bene parte contro bene questo fatto un bel colpo viene todorov salta l'uomo tunnel di todorov e un altro uomo sarà lungo ancora todorov todorov pallonetto todorov todorov col pazzesco di todorov 3 a 1 samp todorov salta due uomini in velocità uno con un tunnel che non fanno rivedere l'altro ha sportellate esce il portiere ma todorov con una pennellata morbida cosa in fila cosa in fila cosa in fila todorov 3 a 1 samp qua intendo va avanti l'azione con grosso che avanza grosso palla per cacalov buona palla cacalov cacalov per la tripletta fermato fallosamente ed è calcio di rigore calcio di rigore calcio di rigore e andrà a batterlo anatoly todorov per la sua doppietta per recuperare cacalov quindi andare a 2 a 2 tra i loro tra i due attaccanti vediamo un po' giallo intanto per proteste todorov per chiudere il match deve rimanere calmo dice la telecronaca inglese todorov portiere immobile 4 a 1 samp siamo davvero agli sgocci di questa partita senoni finisce così avellino 1 sampdoria 4 travolta quindi avellino che meritava qualcosa di più si una sconfitta probabilmente meritata ma non per 4 a 1 ora andiamo a vedere un po' la classifica e poi un po' di calcio mercato e poi l'ultima partita con l'atalanta che alla fine pareggia 1 a 1 vinceva 1 a 0 classifica è questa al momento con l'inter che ora finalmente recupera tutte le partite quindi questa è la classifica definitiva diciamo per ora con 42 punti noi siamo a 38 a meno 4 quindi dall'inter la Lazio a meno 2 e la Roma a meno 3 quindi apertissimo questo campionato apertissimo sembra che ci sono buone notizie almeno nell'ambito delle vendite visto che Carrozzieri non ha mai giocato una partita con me ho cercato di venderlo e il Parma è l'unica squadra che è l'unico giocatore che riesco a vendere cazzo McPhil lo volevo io vabbè non perdiamoci in caccazzate allora l'unico giocatore che qualcuno vuole è Carrozzieri ed è il Parma che mi dà 2 milioni più se bastiamo a Girelli io dico vabbè togliamoci Girelli e prendiamoci 2 milioni però poi l'offerta è questa e anzi scusate qua ho già modificato era così cioè non sembra normale tipo aveva messo 300.000 euro in più una roba del genere così ma mi sembra normale Rattemansini 24 mesi più almeno 30 partite più Sebastiano Girelli che è un bidone che posso prendere anche a zero ma siamo impazziti quindi io ragazzi stavo per stavo per fare una roba del genere togliere tutto e dire fanculo fanculo io voglio il milione 7 che ti ho detto e stai zitto cazzo vediamo un po' se arrivano altre offerte ma le vedo durissima altra curiosità è che Klaus Andertandler oh ma che allenatore dell'Everkusen sta per ingaggiare il Rivaldo che è ormai in disgrazia che è nel Milan che nella realtà effettivamente è andata così vedete qua 2 presenze 17 merda cioè non ho mai quasi mai giocato quando è arrivato al Milan non capisco perché non c'è sotto le altre presenze o è un bug è successo qualcosa di strano ho fatto roba strana perché mi sembra che ci fossero le altre le altre squadre lo sto impazzendo io ah ma no anche Possanzini è un po' tutto bloccato no però a lui c'è Onda Ondo ad esempio arriva fino al 2000-2003 dove effettivamente il gioco io l'ho iniziato nel 2003-2004 boh vabbè non importa non è così importante comunque non sono Domizzi che devi andare via ma va a fare in culo Domizzi tu rimani rimani non te ne vai maledetto stavo dicendo ah San Dario Atalanta hanno rifiutato sia il danese lì del difensore che Toledo ho chiesto allora mi dica mi dica a lei il prezzo quindi ho richiesto informazioni ora San Dario Atalanta e poi se c'è un po' di calcio in mercato ve lo metto e poi ci salutiamo Atalanta che abbiamo già affrontato quindi questo è il ritorno in poche parole il girone di ritorno l'Atalanta l'avevamo già vista quindi non c'è molto da dire che è una squadra fortissima ha iniziato fortissima inizio campionato se ve lo ricordate ricordiamo giocatori come Gian Paolo Pazzini oh mio dio come testa 20 finalizzazione 20 rigori 20 mio dio mio dio e poi Montolevo maledizione Montolivo rigori 20 tecnica 20 e cross 20 quindi mi da molto fastidio questa cosa ma questi sono i giocatori della dell'Atalanta che veve non vi dico neanche chi è Montolivo dove ha giocato Montolivo dove gioca Montolivo dove gioca Pazzini ora che gioca al Verona magari qualcuno non lo so poi c'è anche Alex Pinardi Rolando Bianchi Mauri si quel Mauri lì non del Milan ora dell'Empoli ma quello della Lazio truffatore comunque che ha lì ha avuto scommesse cose del genere Mingazzini anche lui ha giocato nel Palermo poi no ha giocato sempre l'Atalanta si come vabbè non importa Zenoni altro Mauri Innocenti Sala Rustico e importa importa Massimo Taibi che ricordiamo che ha fatto l'autore del gol più veloce come portiere no quindi l'autore cosa sto dicendo ha fatto due gol su no ha fatto solo uno Taibi pensi no ha fatto solo uno Taibi su godi gol vabbè andiamo con Sampdoria Atalanta la nostra formazione è la stessa tra il fatto che questi qua sono le riserve eccoci qua fallaci Lorenzi ricordo che all'andata avevamo perso contro l'Atalanta miseramente l'Atalanta era anche stata prima per un paio di giornate e poi però ha avuto un crollo mentale ricordo che non ne ho promossa comunque però avevo annunciato che sarebbe stata una grande squadra Volpi provo a sorprendere tutti di nuovo ma c'è Taibi in porta che sorprendi dove sta trarre Zenoni di un'Atalanta allo sbando Gasbarroni come la puccia Gasbarroni devo dire che non mi aspettavo un giocatore del genere mi aspettavo un discreto giocatore ma che potesse davvero incidere così tanto nella squadra non ci credevo non ci credevo grande non ha toccata Job penso 1-0 quindi Andrea Gasbarroni guardate un po' a un momento è impresso dalla Juve comunque non è nostro ahimè e ha fatto 16 presenze titolare 5 gol e ora 6 gol e 10 assist quindi fate un po' voi fate un po' voi Volpi si gira indietro per Falcone allarga il gioco per Job molto bene Job per paloma al volo gran parata di Taibi Mingazzini si è fatto male Pazzini intanto non mi ero accorto a metà primo tempo palla per Pinardi non una bellissima palla ma ci arriva Domizzi su di lui ma dove vai Domizzi dove vai palla ma Antognoli Antognoli ancora rolando bianchi la puccia ma Antognoli tiro centrale di nuovo di nuovo ma non si può devo mettere Turci Antognoli devo mettere Turci mi stai dichiedendo di mettere Turci eh perché io parlo così cambio ho messo tre punte è entrato Flacch c'è posto di Job e Grosso attenzione palla in mezzo Grosso eccolo lì Grosso Volpi ma cosa tiri fischi piettosi per Volpi giusto fischiatelo ora salto Samp tre punte proviamoci Grosso sbaglia tutto bravo qui recupera il pallone Fabio Grosso bella palla per Flacchi 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 ma dove la butti ma mattila in mezzo 79 esominuto Gasbarroni 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 salta l'uomo no palla però arriva in mezzo calciato Totoro non è fallo non era fallo era fallo secondo me stiamo avanti a giocare Falcone colpo in testa palla per Volpi Volpi allarga bene per Zivkovic Zivkovic avanza buona palla per Fabio Grosso Grosso sulla fascia palla per Flacchi Flacchi mettili in mezzo ci sono i due campioni più a Gaccalove 2-1 2-1 Gaccalove Gaccalove 2-1 Gaccalove giusto così giusto così Gaccalove Zenoni rimessa laterale ora dobbiamo tenere duro c'è un Belotti che non è ovviamente quel Belotti Volpi bravissimo ricopera palla è un lancio perfetto per Caccalove può mettere in mezzo deve portare in mezzo fuori passa le A ma la mette dentro comunque segna Caccalove 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 3-1 2-2 per Caccalove 4-2 partite super Caccalove super Caccalove finisce così Sandoira 3 Atalanta 1 ci vendichiamo la classifica è la seguente aspettendola Juventus ma non cambierebbe nulla di per sé tra i primi posti perché vincono tutte le prime 4 il Milan perde invece col Brescia l'anticipo che non vi ho fatto vedere ah l'ancora si è nato il gol della bandiera ma era troppo tardi quindi ragazzi vediamo un po' se riusciamo a comprare qualcuno in questi giorni prima della partita e poi ci salutiamo prima di eventus schievo questo video mi sembra che verrà molto lungo 3-0 la madonna la madonna Montero Davids e Bazzani ex ex-amp ricordiamolo con 8 presenze e 6 gol questo fa molto male la serenità ha dichiarato Tocchi Toledo non è vinto a nessun prezzo non abbiamo abbastanza soldi per convincere quindi Toledo lo lasceremo lì fino a fine stagione poi sicuramente lo andremo a prendere per l'anno prossimo peccato aspettiamo invece cosa dicono quelli dalla Danimarca niente da fare il Copenhagen ha rifiutato la proposta di Albert Sten quindi ragazzi si conclude qua al momento la nostra la ringa cosa c'entra la parola ringa non c'entra niente la nostra lotta per prendere Albert Martin Albert Sten vedremo un po' se ci riusciremo in questi ultimi 15 giorni di calcio mercato ci vediamo quindi per il prossimo match che sarà contro l'Udinese e Juventus Coppa Italia alla prossima ciao ciao